E' stato siglato in mattinata il protocollo d'intesa tra Equitalia Sud e l'Ordine dei commercialisti di Nocera Inferiore. Un nuovo servizio a disposizione dei commercialisti dell'Agro Nocerino che consentirà di ridurre i tempi di attesa e di aumentare l'efficacia delle operazioni. Nuovi sistemi di pagamento anche per le utenze, tutto delucidato nelle interviste che seguono. Con l'Ordine dei commercialisti, un ulteriore servizio a favore dei professionisti ma anche dell'utenza? Senz'altro sì, i commercialisti sono il naturale tramite fra Equitalia e i contribuenti. Quindi dare la possibilità di servirsi dello sportello virtuale per compiere tutte le operazioni che normalmente richiedevano la presenza fisica presso lo sportello è un grosso vantaggio per loro ma conseguentemente è un grosso vantaggio anche per gli altri contribuenti perché le attività di sportello in questa maniera vengono molto snellite e quindi minore tempi di attesa per i contribuenti ordinari migliori servizi anche nei confronti dei nostri utenti privilegiati che sono i commercialisti. Snellimento del lavoro che arriva in una fase molto delicata dal punto di vista economico? La fase attraversiamo è sicuramente delicata però andare in questa direzione nel miglioramento dei servizi in generale ha solo dei risvolti positivi anche in questi frangenti assai critici. Tutto quello che va nella direzione dell'efficientamento della macchina statale e del miglioramento dei servizi travalica anche gli eventi contingenti che sono un contesto sicuramente difficile però in questo contesto sicuramente difficile possiamo trovare sempre spunti di soddisfazione tutte le volte riusciamo concretamente ad incidere anche sui processi di lavoro, sui servizi stessi. Nuovi servizi nell'agronocerino sarnese attraverso l'ordine dei commercialisti proprio per favorire i professionisti del settore? Sì, noi crediamo molto in questo sviluppo di sportelli virtuali consideriamo che sia un elemento qualificante della nostra attività facciamo un servizio di alta qualità, di efficienza, di efficacia i tempi di risposta si abbreviano la possibilità per il professionista 24 ore su 24 di mandare le richieste di ricevere le risposte sulla casella di posto elettronica contestualmente questo servizio consente anche un miglioramento del servizio complessivo che facciamo a tutti gli altri contribuenti perché snelliamo i nostri sportelli fisici e consentiamo a tutta l'alta platea di avere servizi molti più rapidi. Servizi rapidi, più efficaci in una zona come l'agronocerino sarnese che ha un grosso bacino d'utenza? Per questo contiamo e siamo fiduciosi che questa iniziativa possa avere un tasso di risposta molto notevole noi la platea dei commercialisti che andiamo a servire è ampia e ripeto diventa un punto qualificante della nostra attività Equitalia Sud, in particolare la Regione Campania sta accredendo, sta sviluppando questo tipo di servizi di sportelli virtuali su tutta la Regione. Lavora allacremente l'ordine dei commercialisti stamattina un protocollo di intesa con Equitalia per garantire ulteriori servizi professionisti. Manteniamo fede al programma preelettorale e quindi cerchiamo sempre di dare un servizio alla nostra categoria che poi chiaramente si tramuta in un servizio al contribuente. Quali sono i benefici che questo protocollo apporterà sia per i commercialisti che per l'utenza? Avere praticamente tutto in tempo reale eliminando le attese di una renotazione che già noi eravamo attivi come ben si sa sull'ordine a questo punto il collega direttamente dal suo studio ha in tempo reale la posizione di ogni singolo contribuente e può chiaramente chiedere le rateizzazioni che il cliente, quindi il contribuente, necessita per poter ottemperare a quello che sono i propri obblighi di debito tributario. La riduzione dei tempi e il lavoro più efficace? Certamente questo sì. Strumenti di pagamento per quanto concerne Equitalia si è creato forse un po' di confusione chiariamo all'utenza effettivamente quali sono i canali da poter utilizzare? Perfetto, allora oltre al canale poste e i nostri sportelli sul territorio e banche il canale ufficiale da fine giugno sono l'Automatica Sisal e poste italiane e anche, voglio dire, quindi anche tutte le tabaccherie sono abilitate. Ecco, stamattina si è signato questo accordo con l'ordine dei commercialisti un ulteriore strumento a servizio del cittadino? Diciamo che questo strumento permetterà a tutti i cittadini e a tutti gli iscritti dell'ordine di facilitare in tempi brevissimi le richieste e meno affluenza presso i nostri sportelli. Presidente D'Angelo, un altro servizio dopo la stipula di questo accordo con Equitalia Sud per ridurre i tempi di attesa? Oggi abbiamo il piacere e io dico anche l'onore come ordine di Nocer di sottoscrivere un ulteriore accordo come se stiamo percorrendo un percorso che sicuramente porterà l'ordine di Nocera ad essere uno degli elementi trainanti. Abbiamo avuto il piacere di avere qui il direttore regionale dell'Agenzia dell'Ansi dell'Equitalia con la quale noi oggi sottoscriveremo il cosiddetto sportello telematico. Uno sportello che ha la funzione di avvicinare i professionisti al territorio e alle istituzioni cercheremo di creare una sinergia non solo sotto un aspetto funzionale ma principalmente a carattere sociale. Con il direttore abbiamo convenuto che le formalizzazioni di tutti i rapporti saranno sotto un aspetto telematico veloci, trasparenti, immediati e faremo sì che il professionista il classico commercialista dell'ordine di Nocera possa essere ad ulteriore supporto alle nostre attività economiche. Uno strumento per smaltire ulteriormente i carichi di lavoro e per andare anche incontro alle esigenze dell'agente, dell'utenza? Io dico non solo di smaltire lei giustamente ha detto andiamo incontro alle esigenze delle persone io dico noi oggi stiamo andando incontro al futuro nel senso che abbiamo inteso fortemente abbiamo colto fortemente l'esigenza del territorio di evitare delle dispersioni di energia economica nel momento in cui ci si imbatte con la pubblica amministrazione. La burocratizzazione noi cercheremo di renderla quanto più semplice possibile e far sì che la burocratizzazione diventa invece un atto di rutino. Con questo sportello noi in realtà facciamo sì che il commercialista a supporto delle aziende possa divenire a tutte e risolvere tutte le problematiche. L'unica problematica che in un certo qual modo ed è giusto che sia tale verrà riservata all'equitalia è la posizione degli incassi che con l'ausilio della lottomatica che stiamo a breve sottoscrivendo un ulteriore accordo i pagamenti non avverranno più presso gli sportelli che richiedono grosse dispersioni di tempo e anche forse di calma ma a mezzo di tutti gli strumenti lottomatici potranno essere risolte tutte le esposizioni debitorie. auguriamoci che sia sempre fuoriero gli altri accordi grazie a noi auguriamoci che il servizio vada a procedere meglio come in altre realtà siamo fiduciosi su questo ringrazio grazie a tutti